Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili sulla diramazione per Pisa, code tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro in direzione Pisa. In A15 invece a causa di lavori rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Treni si ricorda che per lavori di raddoppio ferroviario sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio la circolazione rimarrà sospesa fino al 31 agosto tra Pistoia e Monte Catini Terme, servizio garantito con corse bus sostitutive. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!